benvenuti amici appassionati a questo nuovo appuntamento marcato anaxos pro racing siamo in compagnia di paolino batteato slalom di belmonte mezzagno penultima gara di campionato siciliano paolino questa gara è andata abbastanza bene questa gara è andata abbastanza bene anche se stamattina eravamo partiti qualche restotto visto la previsione medico che comunque siamo svegliati con la pioggia siamo svegliati con la pioggia non sapevamo cosa fare tra gomme abbagnato tra gomme asciutte alla fine abbiamo lasciato sempre le gomme dell'asciutto che dire siamo stati in prima posizione fin dalla prima magia per fortuna per sfortuna comunque siamo stati sempre avanti un ottimo ringraziamento sicuramente andrà sempre michele ferrara per il lavoro che ha fatto e angelo guzzetta ovviamente per quello che che mi da odore assetto e niente ma sei stato bravo pure tutti voglio dire voglio la macchina c'era io quindi sono stato bravo anch'io va bene campionato quasi vinto manca l'ultima prova settimana prossima alla quale andrai non andrai credo che credo che andremo a vedere ma credo che andremo andremo a godersi questa vittoria speriamo al più presto va bene paolino ti ringraziamo e appuntamento alla settimana prossima 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 settimana dove sta gara è questa gara è provincia di iracusa ma ricordo bene il nome la troveremo ci saremo da fare alla prossima amici grazie per l'ascolto alla prossima